Ahhhh! No, Clezza! Perché non vici? Perché non puoi? Ieri, mi avvicinati! Sono così emozionata! Ti sento pochino, però! Mi senti? Sono qua per dirti che siamo veramente orgogliosi del percorso che hai fatto, di come hai vissuto questa esperienza sociologica che è il Grande Fratello. L'hai vissuta in maniera eccelsa, l'hai vissuta come un grande Luna Park, emozionandoti, facendoci emozionare, mostrandoti come sei nuda e cruda, senza orpelli, senza maschere, senza sovrastrutture e la tua verità, la tua verità del cuore è arrivata a tutti, la tua eleganza. Veramente, sei stata una donna diversa e io penso che la più grande vittoria sia questa, la tua lealtà. Anche quando hai vissuto situazioni un po' spiacevoli, io ho imparato tanto da te. No, giuro! Ho imparato tanto da te e sei veramente la nostra piccola grande guerriera, amichi. È bellissimo quello che hai fatto e questa è la più grande vittoria. Amore, grazie! Io ho scoperto una sorella che non conoscevo in realtà. Noi ci siamo conosciute da adulte e tante cose non le conoscevo ancora. a presto! A presto! A presto! Noi! 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 La bella!